Siamo in compagnia di Giovanni Esposito Siamo affrontando una grande preparazione soprattutto fisicamente per metterci ai loro livelli Giovanni, a livello personale che stagione ti aspetti? Sicuro una delle miglie stagioni, infatti vogliamo fare delle pessime partite e vogliamo sempre dare il massimo Dare il massimo anche e soprattutto a livello di squadra, l'obiettivo ovviamente è quello di far bene in questo campionato che adesso è Under 17 nazionali A e B Giovanni, io ti chiedo, lo scorso anno era campionato regionale, adesso è campionato nazionale A e B Quali sono secondo te le difficoltà che si possono incontrare? Allora, sono due campionati tutti proprio diversi C'è molto spazio fra di loro Infatti il campionato nazionale va a affrontare squadre di poco livello Infatti il campionato nazionale è molto di serie A e serie B Infatti ci dobbiamo preparare meglio per affrontare meglio queste squadre